Gesù generale di pace, come è il cui dà il successo a tutta la nostra io tv. Gloria al Padre e all'Fino del Spirito Santo. Come la Dette in un ciclio e ora a i seti, a i seti, a i seti. La mia Nera Federica è la tua vita, la mia Nera mia Nera di Piazza. Grazie. 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 Non perdere il tuo figlio. Perché il tuo figlio è stato sentito in te. Non dimenticare l'ora e l'ora di il tuo figlio. E il tuo figlio è stato sentito in te. Il tuo figlio è stato sentito in te. Non costruirvi di una sentita. Non è stato sentito in te. Paio il tuo figlio. E se il figlio sia santificato il tuo figlio. Venga il tuo figlio. Sia fatta la tua volontà. Convincere così l'interno. Danci oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come noi li invitiamo ai nostri debitori, e non ci muovere in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, grazie a voi, Signore, e a te, forse, donaci iniziate via la vita di questi giorni, e di contundere per il genere del servizio di tutti i nostri pretenti, perfetto con il suo Signore. E con il tuo Spirito. E con il tuo Spirito. Amen. E con il tuo Spirito. Avevo il mio amore, grazie al Signore, e bello il Signore di tutti i nostri pretenti, e bello il Signore di tutti i nostri pretenti. Santa Maria, a te, forse, prega per noi peccati. Adesso non in cuore della nostra morte, amore. E con l'altro serbato di tutti i nostri pretenti, e bello il Signore di tutti i nostri pretenti. Avevo il mio amore, grazie al Signore. Tu segnali il mio amore, grazie al Signore di tutti i nostri pretenti. Santa Maria, a te, forse, prega per noi peccati. Adesso non in cuore della nostra morte, amore. E bello il Signore di tutti i nostri pretenti. Ave voglia di grazia di Signore, tu sei credito e farlo del bene e del frutto del tuo Signore. Santa Maria, prega per i peccatori, avesse il nuovo nostro amore, ti amo. Prega per il Signore, tu sei credito e farlo del bene e del frutto del tuo Signore. Preghiamo, infondi il nostro Stipo e con grazia di Padre, tu che è in appena di essere un altro generale in una cosa, il mio figlio per la sua passione, ed è solo tu, guiderci alla gloria della nostra passione, per crescere il nostro Signore. Amén. Preghiamo, infondi il tuo Signore, tu sei credito e farlo del tuo Signore, tu sei credito e farlo anche il tuo Signore, il tuo Signore, tu sei credito e farlo del bene e ti voglia affidare anche il tuo Signore, tu sei credito e farlo anche il tuo Signore. Amén. E tu sei credito e farlo anche il tuo Signore, tu sei credito e farlo anche il tuo Signore. di tutti gli uomini e la grazia del Suo Spirito Santo ha gloria nel Divino Padre